La storia del Palazzo Pagano a Quadrelle in provincia di Avellino inizia nel 1300 quando nell'area dell'attuale Palazzo Pagano vi era il possedimento feudale dell'abbazia di Montevergine forse organizzato in grangia che nei primi decenni del 1500 passò poi in proprietà alla Santa Casa dell'Annunziata di Napoli. Agli inizi del 1600 i Barile, nobile famiglia napoletana, acquistarono in Quadrelle una casa con giardino da identificarsi con l'antica sede di proprietà abbaziale. Da sito agricolo legato a necessità produttive il giardino cominciò ad assumere il carattere di luogo di ornamenti e di delizie che conservò e si accrebbe con i successivi proprietari Paolo Braccio, barone di Cutignano, Francesco Emanuele Pinto, principe di Schitella e dal 1773 a tutt'oggi della famiglia Pagano. Il giardino ha un'estensione di 3500 metri quadrati frazionati in due riquadri e in un boschetto sul lato nord. Tre fontane in grotte e edicole sono collocate in aderenza al muro di fondo. Una quarta circolare è all'incrocio dei due viali mediani. Poggi e sedili punteggiano infine le prospettive più significative dei viali. Gli elementi architettonici sono realizzati con strutture in pietrame calcareo e tufaceo rivestite di intonaco e piastrelle maiolicate. L'apparato decorativo è ottenuto mediante stucchi, frammenti di schiuma di lava, di alabastro, di corallo, di vetro, di conchiglie, tutti concorrenti a comporre figure e spartiti architettonici. Il patrimonio botanico oggi esistente comprende monumentali lecci plurisecolari accanto a bossi, mitri, mirti, lauri, pervinche, palme e alberi da frutta. Gli impianti idraulici oggi del tutto inattivi sono tuttavia presenti e potenzialmente efficienti per alcuni tratti. Il disegno del giardino è caratterizzato da evidenti variazioni rispetto alla regolare geometria. Il recinto murario e i due viali principali non determinano quattro settori uguali infatti, ma quattro trapezoidi che sembrano simulare la prospettiva. L'allineamento dell'asse del palazzo determina nella direzione nord-sud due parti non uguali. Il tracciato dell'asse est-ovest è ortogonale al primo e genera una simmetria bilaterale. Il recinto segue sul lato ovest gli allineamenti ortogonali del palazzo con la struttura urbana, mentre sul lato opposto ruota sensibilmente verso l'interno per lambire un leccio plurisecolare già esistente nel seicento. Da ricerche catastali risulta inoltre che il palazzo, il giardino e i fondi adiacenti hanno sempre fatto capo ad un unico proprietario, per cui le citate variazioni formali sono derivate da finalità progettuali. Il simbolismo del giardino è svelato da una piccola scultura marmorea che raffigura un mascherone dalla cui bocca sgorgava acqua iscritto in un ovale alla cui sommità appare la testa di un monaco incorniciata dal cappuccio del saio. Iconografia legata all'originale proprietà abbaziale dell'uomo, del luogo. Nel 1500 il passaggio a famiglie nobiliari porta alla rimozione del simbolismo religioso e alla sostituzione configurazioni naturalistiche, astronomiche e demoniache. Il polo della morte è riassunto visivamente dalla ricorrente figura del cipresso, ma il giardino è anche frutteto, dunque alimento di vita. Nel giardino l'acqua compone giochi e spazi di frescura per divenire poi una fonte per gli abitanti di quadrelle. Infatti un'antica fonte generata dal vicino monte Campimma ha alimentato dalle origini fino agli anni 1930 le fontane nel giardino. Nel cellaio del palazzo fino al 1700 gli abitanti del paese attingevano l'acqua, poi erogata da una fontana costruita nella piazzetta antistante dal principe di Schitella. singolare e densa di significati è la tradizione popolare che assegna all'acqua dell'antica fonte virtù terapeutiche, per cui la modesta fontanella evoca un rapporto ancestrale e simbolico con quest'acqua, quando essa era elemento di gioco e di frescura, ma anche in senso letterale fonte di vita.